Buongiorno da Informa Lecco, ecco gli eventi per la provincia di Lecco da oggi a fine dicembre 2011. 17 dicembre 2011, Lecco, il paese dei campanelli, spettacolo teatrale all'interno di Pomeriggia Teatro 2011-2012, presso il Teatro della Società in Piazza Garibaldi, ore 16. Biglietti posto unico 10 euro, i biglietti dei singoli spettacoli sono in vento da mercoledì 30 novembre. Domenica 18 dicembre 2011, Civate, concerto degli auguri, concerto corale, presso la chiesa dei Santi Vito e Modesto, ore 16.30. Venerdì 23 dicembre 2011, Lecco, località Arancio, fiaccolato sul San Martino, tradizionale camminata sul monte San Martino, a cui seguirà la Santa Messa nella cappellina alle ore 22 circa, partenza presso via Quarto, ore 20. Sabato 24 dicembre 2011, Mandello dell'Ario, sfilata di carri natalisti, partenza dal centro della città fino a giungere alla zona Lago, dalle ore 20. Lunedì 26 dicembre 2011, Civate, un Natale ai Caraibi, concerto del Quintetto Spirabilia, presso la cripta della chiesa di San Caloceron, ore 17.30. Giovedì 29 dicembre 2011, Lecco, Ceremony of Carols, concerto per coro all'interno di concerti di Natale 2011, presso la Basilica di San Nicolò, ore 21. Questi sono gli eventi di Lecco Provincia, segnalati da Informa Lecco. Per conoscerne altri o per maggiori informazioni, vi ricordiamo di visitare il sito www.informalecco.com e cliccare sul calendario o su lista eventi. Buona giornata, da Sara.